Che dite di questa volta? L'ho imparata all'academia dica. Se mi ammazza non la posso apprezzare. Io non l'ho capito, la faccio anche a lui. Ah sì sì, anche a lui. Io ne ho avuto abbastanza. Avanti svento, lo faccio vedere anche a lui. Bene, ecco l'uomo più forte, Arsenio. È una persona normale. Ehi, ecco l'uomo più forte. Oh, grazie per avermi fatto vedere una cosa veramente interessante da rendermi umile. Ci vediamo, addio, addio.